Un raccordo costante tra i conducenti dei mezzi di Quadrifoglio, l'azienda per la raccolta dei rifiuti, e di ATAF, l'azienda di trasporto pubblico urbano e le rispettive imprese. È una delle indicazioni del prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida, che, anche alla luce di quanto accaduto a Berlino, ha annunciato attenzione ai mezzi pesanti in circolazione nelle zone cittadine. Tra l'altro i mezzi di Quadrifoglio e ATAF possono circolare all'interno del centro storico. Inoltre, per le festività sarà rafforzata la vigilanza agli obiettivi sensibili e nelle aree di maggior afflusso di persone, come mercati e centri commerciali, e dove si svolgono manifestazioni pubbliche. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per esaminare lo stato della sicurezza fiorentina, anche in relazione alla circolare che il Viminale ha inviato ieri ai prefetti. Al Comitato hanno preso parte anche il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, e i vertici delle forze dell'ordine. Abbiamo adottato queste misure, ha spiegato il Prefetto, in un'ottica di prevenzione per consentire alla città di trascorrere le feste con tranquillità. Non sussistono al momento allarmi specifici da impedire di vivere questi giorni con serenità. Il Sindaco di Firenze ha sottolineato come la collaborazione tra Comune, Prefetture e Forze dell'Ordine continui ad essere forte e massima per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti.